Buon pomeriggio, vi presentiamo un commettraggio dell'inclusione. Con noi c'è la Margherita e l'Aila. Della rinclusione, cosa pensate di questa cosa? Allora, io dell'inclusione penso che sia una parola molto importante e particolare. Io mi sento sbocciata perché mi sono sempre stata a contatto con amici e accettata sempre da loro. Quindi non me ne faccio un problema. Del senso che ho sempre pensato che sia una parola per me che nasce dal cuore. Perché con tutte le persone che mi stanno vicino io sono sempre stata me stessa. Quindi io posso solamente dire che mi sento parte di questo progetto. E cosa ne pensi dell'inclusione? Per me l'inclusione è il tutto. In quanto l'inclusione sia tra i paesi, la socialità, la scuola, negli ambiti ecoscolatici e anche non. Per me l'inclusione è come persona. Lo vivo molto tranquillamente. Non mi metto barriere architettoniche, a quanto pare. E posso dire che comunque uscendo anche con amici, con persone, soprattutto, lo sottolineo, della mia età. Sì, anche con persone che hanno meno della mia età o superare la mia età. Non vuol dire che non sia inclusione. Inclusione è il tutto. Perché comunque se sei bene con quella persona, dai tutto a se stessa. Grazie. Vi presento Francesca Busca, che vi parlerà del commetraggio dell'inclusione. Cosa ne pensi? Allora, questo è un cortometraggio che ha partecipato al premio Inclusione 2.0, che ogni anno l'Università di Macerata propone. È un cortometraggio, diciamo, che ha un taglio particolare. Perché? Perché racconta la storia di donne che, pur avendo una condizione di disabilità, vivono a pieno titolo la vita e sono inclusi in un contesto sociale. Quindi è un cortometraggio che dà un messaggio, perché il raccontarsi di queste ragazze è una conferma che se si vuole si può e se si può si deve. Grazie.